Nel 2001 sulla 125 E nel 2003 nella 250 Esatto Seconda partenza invece alle 16.10 abbiamo Moto3 quindi Giorg e Martin Siamo curiosi di sentire un po' che rumore faranno queste moto Assolutamente fantastico, sì, perché ovviamente ci sono tantissime persone Il weather è perfetto e per provare per la prima volta il Moto E in casa è qualcosa di perfetto Anche perché probabilmente in questo anno io sarò parte del Moto E Quindi è un buon start, è un buon start È perfetto perché qui in San Marino durante questo tempo ci sono tantissimi turisti Quindi abbiamo un ragazzo spagnolo e un ragazzo inglese Quindi tutti potrebbero dire i ragazzi Quindi è una situazione perfetta per ottenere molti persone E per fare un giorno bello prima del reale weekend della racza È stato un evento davvero bello con molti persone Grazie al MotoGP per questo evento È anche molto bello di essere con la racza e la competizione nella strada È molto bello È molto bello E abbiamo fatto alcuni wheelies e alcuni barnaut È molto bello È molto bello È stato molto speciale Ma anche l'anno scorso è stato molto bello Perché, sai, nella città In mezzo della strada Puoi fare alcuni wheelies È molto bello 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 enjoyed a lot Grazie per la visione!